Giovedì 28 settembre alle ore 19 presso il Castello Angioino Aragonese ad Agropoli si terrà il seminario aperto al pubblico dedicato all'educazione finanziaria, organizzato dalla banca UIDIBA. L'iniziativa rientra nel programma di divulgazione di cultura finanziaria sviluppato da IAB di Educazione Finanziaria di Santa Maria di Castellabate e di Capaccio, nati lo scorso giugno con l'obiettivo di rispondere concretamente alla legge salva risparmio e alla forte richiesta di informazione e orientamento dei cittadini in tema di tutela e pianificazione patrimoniale. A spiegarci nel dettaglio l'iniziativa i consulenti finanziari della banca UIDIBA, Gerardo Russo e Pasquale Frese. Sì, in effetti parleremo dell'istituzione nel cilento degli abiti di educazione finanziaria. L'idea è un po' immaturata nel tempo, 20 anni di attività professionale, di incontri con i clienti mi hanno fatto capire che la consulenza finanziaria è di per sé importante, però se è preceduta dall'educazione finanziaria può acquisire maggiore efficacia. Far conoscere l'ABC ai clienti, ai risparmiatori è importante perché? Perché innanzitutto i clienti riescono anche a fare scelte più consapevoli e soprattutto riescono a valutare meglio il consulente finanziario che hanno di fronte e soprattutto l'efficacia e la bontà della proposta che gli viene fatta. Da qui l'idea di far nascere e istituire questi abiti di educazione finanziaria che non sono altro che degli uffici, dei luoghi in cui gratuitamente i cittadini possono rivolgersi a dei consulenti finanziari che erogano un servizio di educazione finanziaria certificata. Io mi trovo a Santa Maria, un piccolo centro come tanti altri piccoli centri nel cilento e non vi nascondo che molto spesso questi quesiti, queste domande ci vengono fatti in strada. Da qui l'idea di dedicare alcune giornate all'educazione finanziaria e dedicarle in modo gratuito, quindi chiunque potrà venire qui in ufficio e fare delle domande e sicuramente avrà delle risposte sulle diverse tematiche finanziarie. Gli abiti di educazione finanziaria sono due, uno è qui presso l'ufficio di Santa Maria di Castellabate, il secondo è ubicato a Capaccio Scalo. All'interno di questi uffici ci saremo noi ed altri colleghi e forniremo un servizio di consulenza finanziaria gratuita certificata. Preciso che sul territorio nazionale siamo oltre 50.000 consulenti finanziari, ma di questi 50.000 solo 200 possono vantare la certificazione per la consulenza finanziaria. Tengo a precisare che su questi 200 ben 5 sono presenti nell'area cilentana e quindi proprio tra Santa Maria di Castellabate e Capaccio. Colgo l'occasione per invitare tutti coloro che fossero interessati a partecipare al seminario di educazione finanziaria che si terrà il 28 settembre con inizio alle ore 19 presso il castello angioino aragonese di Agropoli. L'ingresso è libero.